secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie grazie e 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 i 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 要はこういう揉めた時に 揉めないようにするために ルールを設けておくか それとも揉めたら 各々バチバチやるなりするか っていうところで話し合ってる っていう認識で大丈夫ですか? そうですね そもそもキープするかしないか っていう話じゃなくて ルールを設けるか否か っていう部分の話ですよね ありがとうございます 失礼しました ありがとうございます その なんかミッション取りに行くと 今でも 正直チンチロとかで 決めてるじゃないですか 別にあそこ殺し合って 奪い取ってもいいと思うんですよ 私は ミッションやってる最中に 襲ってもいいと思うんです 正直 ギャング同士 ミネが取り取りたいとかあるから 一緒にいなよ 知らないことができてるの? この髪を剥がたくさん 何? 何? 今の髪を剥がたくさん? 私たちの人たちの人たちの ちょっと 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 ストーリー うるみが狂う 私たちの人たちの人たちに だから ケイク Ah Oh Ah Perché Ah 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 non è mai detto cioè l'uomo L'uomo di 3 guardate 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 la mia il giorno Grazie mille! aspetta che to 4 da più grande offro da yoga la cari del group of the ha 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 pure la vita non ma azzamore che in ma chi nasa mi e maして a scendio stannut noi ciò ori mallor l'e e ma da se mochina ha chiamato la cia di corretto oma e non appo neppi ho schermd's cool un certo oka no gang duki nato ho anzi nusca me are you are you willing to unlock the pandora's box gaze into the void in truly understand this is the mancha you know the month of march i couldn't get all you I tried to fucking DM you Antoine I followed you I tried so hard I just couldn't get a hold of you that's literally it I don't understand what you're saying I'm on duty every day no look this isn't a conversation that I could have face to face it needed to be something that we talked about privately I just couldn't do it couldn't get a hold of you that's it that's literally it everybody else can why didn't you ask me we have each other's I think we're done here I think we're done how 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 It's putain иной you emary non altro venire if stand no o per no o grazie 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 Sì, 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 sì. Ma io ciò che nel caso di questo? Non c'è? D'o anche se... Non c'è questo... Ah! 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 Ah!